Ciao ragazzi, bentornati sul nostro canale con Bayonetta 2. Eccoci adesso al capitolo 4, l'incontro. Grande Luca. C'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è un po' che c'è sempre sui piedi, Cheshire. L'ha notato? Allora, vediamo se qua dietro c'è qualcosa. No. Oh, ce l'ho fatta a trasformarmi in pantera. Che schifo che è sto coso. C'è un po' che c'è un po' che c'è. Cosa mi dai? Un frammento, un pezzo di LP. Dovrebbe essere metà questo. Versetto 1 completato. Sì, vabbè, non ce la faccio pronunciare il tedesco. Di qua forse si va avanti. Vediamo... Eh, vabbè. Di qua non c'è niente. Perciò apriamo questa. Ah no, non la apre proprio. Fa crollare tutto. Tomba di una strega. Mecca lecca magico. Ok, come il primo che quando c'è la luna possiamo camminare in verticale sui muri. E muore. Top. Come vedete con l'attacco torturante non importa quanta energia hanno i nemici, ma li facciamo quasi sempre fuori. Eh, niente male. Niente male. Gekko cotto. Vediamo se qua c'è qualcosa di interessante. Ma sembra proprio di no. No, qua c'è una tomba. Pfff. 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 Ah, mi sembrava. Pfff. Voleva già pagliare l'ultimo pezzo. Pfff. Finisci. Questo è... Perla di luna. Perfetto. Abbiamo... Un'altra... Sfera. Pfff. Occhio. Pfff. 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 5 è completato. Ok. Lecca lecca che forma la barriera magica. Cioè è inutile però. Sta città ha sempre la Vigrid. Quella del primo. Cos'è che è sulla fronte? Oh shit. Sorry mate. But I haven't the fucking slightest. I haven't seen her in ages. Besides, even if I knew. She and I have a special. Relationship. Then this will be all the easier. Shit. This one uses le piume. Come il padre di Baio. Arrivo piccolino. Questi come potete vedere non sono combattimenti obbligatori. Quindi se voi li volete fare, fateli. Altrimenti insomma, saltate. Alla fine, poi nel punteggio finale, vi andranno ad aumentare. Ovviamente. Ok, qua c'è un coso di Rodin. Là? Cosa c'è? Niente. Due seduti. Innamorati. Due piccioncini. Dai che voglio andare a salvare Loki. Eccoci qua. Eccoci qua. Non c'è un coso di subito. Non c'è un coso di formale. Non c'è un coso di formale. Ok, poi c'è un coso di figo. Non c'è un coso di figo. Madonna, che velocità Lumen mascherato 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 Lumen mascherato